Un uomo di 74 anni, cittadino britannico, è stato arrestato a Shepshed in relazione all'omicidio di Michelle Fiers in Italia. E' quanto si legge nel comunicato della polizia inglese di Leicester. Per la morte di Michelle Don Fiers, l'unico sospettato continua ad essere Michael Dennis Whitbread, arrestato in Inghilterra dalla polizia inglese dopo la fuga dall'abitazione di Contrada Verratti a Casoli, dove la coppia, entrambi separati, viveva da tre anni. Elementi utili per chiarire se e perché a uccidere Michelle Fiers sia stato proprio il 74enne inglese, compagno della vittima di questo ennesimo femminicidio, potranno emergere dalla cooperazione tra gli investigatori inglesi e quelli italiani. Le ricerche di Michael Dennis Whitbread, il rintracciabile da giorni, si sono immediatamente concentrate anche all'estero già da mercoledì 1 novembre, quando è stato scoperto il corpo senza vita della 66enne inglese. A lanciare l'allarme è stata un'amica di Michelle, Ellen, anche lei inglese, trasferita nella vicina Palombaro dove vive una nutrita comunità di inglesi. Da giorni la 66enne non rispondeva al telefono ed Ellen, preoccupata per il lungo silenzio, aveva deciso di recarsi in Contrada Verratti a Casoli. Michelle era in casa, ma ormai era un corpo privo di vita, martoriato da sette coltellate. Di Michael Dennis Whitbread, compagno della vittima, invece, nessuna traccia. Irreperibile, in fuga da giorni con una jeep bianca poi sequestrata per oltre 2100 chilometri verso l'Inghilterra, dove il 74enne aveva deciso di tornare. La polizia britannica lo ha trovato in casa della figlia, grazie a un lavoro di cooperazione internazionale con i carabinieri di Chieti. Il movente ipotizzato è per ora quello passionale, mentre si cerca ancora l'arma del delitto. Un coltello dalla lama lunga, con cui l'assassino ha ucciso la 66enne. Gli investigatori italiani, intanto, hanno ascoltato vicini e conoscenti della coppia, oltre ai numerosi connazionali residenti nella vicina Palombaro, dove vive una numerosa comunità britannica che Michelle e il suo compagno frequentavano ossiduamente. Testimonianze preziose che anche la stampa inglese, con il Daily Mail e il Times, stanno cercando di raccogliere con i giornalisti inviati in Italia per raccontare l'accaduto, che ovviamente ha avuto un eco anche oltremanica. A giorni, il procuratore capo di Lanciano, Mirvana di Serio, che indaga sull'omicidio, conferirà l'incarico per l'autopsia al medico legale Pietro Falco. In Italia, intanto, si attendono i familiari di Michelle Donfayers, madre di due figlie e nonna. La loro unica richiesta, per ora, è il rispetto della privacy e di un dolore troppo grande da accettare per un vuoto così improvviso.